Duetta con me, rispondi a queste semplici domande Ok, dimmi, qual è la cosa che ami di più in assoluto? E fare i video su TikTok e YouTube Bene, ora dimmi, qual è la cosa che odi di più in assoluto? Le persone maleducate e ignoranti Ok, ora ripensando alla cosa che ami di più in assoluto Dimmi qualcosa che potrebbe succedere per fartela odiare E ora ripensando alla cosa che odi di più in assoluto Dimmi qualcosa che potrebbe succedere per fartela amare E fa che le persone maleducate diventassero più educate Ah, dai!